football strike football strike non capisco una mazza ma io vado e faccio una gara di punizione del volo vediamo che viene uuuuh ma che bello vieni a prenderlo vieni a prenderlo il peggio non vado bene uuuuuh senti la stampana vieni a prenderlo uuuuh si no pallonetto uhhh uuuuh 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 questi zainetti bene bene gara di tiri oh che bello il sitino arancione che bella magliettino arancione guarda qua c'è forse guarda subito quell'arancione guarda 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 Grazie guarda, perfetto, puoi prenderci indietro ah, li devo piano li devo piano, sono riuscito non posso, non posso mi piace, non posso provare di tiro, di nuovo facciamo qua non ho strunzato, scusate vero, non ho felice oh 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 è bene su questa questa è la buona distrutta questa è la buona distrutta questa è la buona distrutta è un'altra canale aiuto abbiamo un attimo abbiamo un altro bavuletto blocchiamo un bavuletto no, A72 no, 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 dove è? facciamo questo 18, sì che ci sta 150 un paio di baffi con la testa carriera che roba è? ragazzi stiamo facendo un carriera un carriera un carriera un carriera un carriera un carriera complicato benvenuto David ti aspettavo non sm reconstruisco no, che bello Grazie a tutti. 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 Qua ci perdiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.